Grazie Presidente, per quanto riguarda questa proposta innanzitutto ci tengo a ricordare una delle precedenti delibere che è stata approvata sotto l'attuale amministrazione e che consiste in una vittoria di tutto il mondo delle associazioni sportive su una battaglia durata almeno 30 anni, ovvero quella dell'utilizzo delle risorse raccolte dai municipi tramite le concessioni di centri sportivi municipali e nella destinazione di queste risorse nella manutenzione delle palestre scolastiche. Questa è una delle numerose delibere che abbiamo approvato nel corso dei precedenti mesi ed anni, dal 2018 in poi, su questo argomento a testimonianza che in realtà quello che è stato fatto e ottenuto in questi anni sono risultati concreti sui quali io sono contento di vedere che oggi tutti ci esprimiamo il favore ma devo dire che questo favore non si era mai concretizzato in passato e invece durante questi anni questo è avvenuto. Quindi ricordo appunto che abbiamo già votato che per tutte le risorse a disposizione possono essere utilizzate per la manutenzione o per l'acquisto di materiali che si intende materiali ovviamente per l'attività dei centri sportivi municipali ma anche in questo caso per le sanificazioni e vorrei sottolineare che non è il problema delle sanificazioni quello che hanno affrontato le associazioni ciò che ha impedito ad alcune associazioni di ripartire è stato fondamentalmente il diniego di alcuni dirigenti scolastici e in alcuni casi dei problemi di comunicazione con i municipi nessuno ha evidenziato questo come il problema determinante alla ripresa delle attività e tutti i centri sportivi municipali che già hanno ripreso le proprie attività a partire dal 25 maggio e nei giorni successivi hanno superato senza difficoltà questo problema. Quindi è come dire, lo ritengo un falso aiuto questo che siamo chiamati a votare e quindi esprimo il voto contrario da parte del Movimento 5 Stelle ribadendo, ripeto, che invece il supporto vero alle associazioni anche dal punto di vista economico è già stato ottenuto grazie al vincolo dell'utilizzo dei canoni di concessione che abbiamo ottenuto con una precedente delibera. Grazie.